Salve, l'unica cosa che vorrei aggiungere a ciò che giustamente abbiamo già detto è che la nostra non è e non vuole essere una guerra politica, non vuole avere nessun connotato di destra o di sinistra, anche perché al di là di noi proprietari di strutture, i nostri dipendenti non hanno un problema di destra o di sinistra, hanno un problema di una buona politica e vi ringrazio.